A presentare questa salsa che si chiama Cannavalero diamo il benvenuto a Martina e Federico! A presentare questa salsa che si chiama Cannavalero diamo il benvenuto a Martina e Federico! A presentare questa salsa che si chiama Cannavalero diamo il benvenuto a Martina! A presentare questa salsa che si chiama Cannavalero diamo il benvenuto a Martina e Federico! Martina Papa e Federico Taglioni!